E oggi anche la giornata nazionale degli alberi, vediamo quali le iniziative messe in campo dall'associazione Promo Verde Puglia per sensibilizzare i cittadini baresi sul tema di servizio. Tutti con i capellini verdi per assistere alla piantumazione di un leccio in largo Lorenzo Lorusso e scoprire passeggiando a Percodugugio le diverse tipologie di alberi esistenti. È dedicata principalmente a loro, ai bambini della scuola primaria dell'Istituto Margherita e del XIV Circolo Didattico Re David, la giornata nazionale degli alberi, riconosciuta dalla legge 10 del 14 gennaio 2013. Un'occasione per riavvicinarsi alla natura e imparare l'importanza di boschi e foreste. Piantare gli alberi e mantenere gli alberi è una cosa importante. Bari è una delle città in Italia che ha la più bassa quantità di metri quadri di verde per abitanti e quindi su questo dobbiamo impegnarci per provare a piantarne di più di alberi. Una giornata costellata di appuntamenti, quella organizzata dall'associazione Promo Verde Puglia. Nel pomeriggio la presentazione di Scoprendo Bari, 10 esemplari dalle radici storiche, libro scritto a quattro mani da Pierluigi Rossi e Giancarlo Massari, in cui piante e personaggi storici vengono messi in relazione. Alle 19.30 invece la premiazione delle 30 migliori fotografie di alberi scritti al Challenge Instagram, il contest preso d'assalto con più di 350 partecipazioni. Per ammirarle basta recarsi nel punto vendita frulez di Piazza Umberto e di Piazza Eroi del Mare. I bambini li abbiamo potuti godere qui in questo parco, io li ho visti sedere accanto agli alberi, anzi vorrei anche invitarli ad abbracciare un albero perché si avverte una sensazione di benessere quando si è vicino a loro. I bambini sono molto attenti. Ed è stato presentato questa mattina nella libreria La Terza di Bari, Miraz, il nuovo disco del duo, composto dalla cantante Giovanna Carone e dal pianista Mirko Signorile. Un viaggio onirico liberamente ispirato alle città invisibili di Italo Calvino. Lanciato anche il primo concerto speciale del duo organizzato per presentare il disco. Si terrà al Teatro Forma di Bari domenica 30 novembre alle ore 20. E l'attrice barese Elisabetta Mossa torna nella sua città per stupire il pubblico nel suo spettacolo, nel nuovo spettacolo che è la vista protagonista sul palco del Teatro Forma, Rooms 2.0. Un soldato registrato già da una settimana, un successo che ha stupito gli addetti ai lavori. Ieri sera sul palco del Teatro Forma è andato in scena Rooms 2.0, lo spettacolo scritto da Elisabetta Mossa, un viaggio teatrale alla scoperta di un mondo, o meglio di un fenomeno che sta prendendo piede anche in Italia, quello degli Ikikomori, eremiti moderni che si rinchiudono tra le mura di casa e decidono di affrontare la quotidianità davanti allo schermo di un PC. Il fenomeno è nato in Giappone ma si sta espandendo a macchia d'olio in tutto il mondo, a Milano l'Ikikomori sono già 2000, una patologia certo che ha radici profonde, una malattia dell'anima che ha ispirato la giovane autrice del testo teatrale che ha deciso di cucire addosso alla barese Elisabetta Mossa il personaggio di Olivia, ad accompagnarla sul palco le voci del web gestite dal sound designer Alberto Biasutti, un esperimento eversivo, ponderato e razionale, raccontato anche in un e-book e da cui è nata una collaborazione con il Centro Ikikomori di Milano con cui è stato avviato un progetto per le scuole sulla sensibilizzazione e la prevenzione delle nuove dipendenze da internet. Ma Olivia ieri sera ha trovato la sua identità non più sola, persa per le buie vie del web, ma accompagnata dagli applausi calorosi del pubblico del Teatro Forma. Ed è tutto esaurito per il concerto di Sergio Cammariere in programma domani sera alle 21 al Teatro Petruzzelli. Il cantautore italiano di origini calabresi ha scelto Bari per presentare in anteprima nazionale il suo ultimo album di inediti, Mano nella mano, che ha dato il nome anche al tour che lo vedrà protagonista nei maggiori teatri della penisola. Dieci nuovi brani che Cammariere proporrà al pubblico domani sera insieme a Vecchi Successi. L'evento promosso in collaborazione con Bass Culture è il secondo appuntamento della sesta stagione musicale del Teatro Forma. Cose di case chiuse invece il titolo del nuovo libro del dottor Nicola Simonetti, edito da Adda Editori, è scritto insieme alla moglie Mimma San Giorgi, un viaggio nel mondo della prostituzione di ieri e di oggi, raccontato attraverso studi ma anche attraverso storie di vita vissuta di un medico che aiutava le prostitute. Sentiamo. Un passo indietro nel tempo e quei ricordi di una vita passata insieme che raffiorano, storie da raccontare e da condividere con gli altri attraverso un libro edito da Adda Editori. È così che Nicola Simonetti e sua moglie Mimma San Giorgi hanno presentato nella sede dell'Ordine dei Medici di Bari il loro libro di ricordi, storie di case chiuse. Un viaggio nella storia del mondo della prostituzione di ieri e di oggi, affrontato attraverso studi ma anche tanti racconti che scorrono nei capitoli e che riportano Simonetti agli anni in cui era medico chirurgo all'ospedale di Venere di Bari e aiutava le prostitute che chiedevano aiuto, supporto e consulenze mediche, come quella ragazza, oggi una professoressa universitaria in pensione, che stamattina da Londra lo ha chiamato per ringraziarlo ancora una volta. Ha avuto un incidente amoroso purtroppo e poi è finita in casa di cos'ha. Quando abbiamo cominciato a parlare abbiamo trovato poi una professoressa dell'Università di Bari, di lingue, che l'ha presa molto, l'abbiamo presentata, siamo stati insieme, si è lavorata a Bari, è uscita, poi ha continuato a studiare, poi si è sposata, poi mi ha telefonato oggi dicendomi che sono andato in pensione il primo novembre, era professore associato all'Università di Torino in lingue, cosa più bella. Dalla Parigi degli anni 30 ai giorni nostri, quello della prostituzione, è un mondo in continuo cambiamento ma rimane pur sempre un fenomeno sociale tragico e crudele. Pensare a quelle ragazze che erano chiuse e avevano il dovere di sorridere, un rì di pagliaccio, in questo caso rì di pagliaccio. Durante la presentazione del libro sono intervenuti Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Francesco Schittulli, presidente della provincia e il giornalista Lino Patruno, ad arricchire storie di case chiuse invece la prefazione del professor Umberto Veronesi. Umberto Veronesi mi ha letto il libro prima, e poi mi ha telefonato e dice bellissimo, voglio fare la prefazione. E così è stato? Cos'è stato. E questo era il nostro ultimo servizio, diamo invece ora uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, poco lunovoloso, le temperature saranno comprese tra gli 11 e 17 gradi, venti moderati e mare poco mosso. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet, telebari.it, radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato infochioccio del segno di zorro.it Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito.